In questo numero di AgriFood Magazine, food waste, nel mondo vengono sprecati un miliardo di pasti al giorno, l'intelligenza artificiale si fa strada nell'industria alimentare, fatturato record per il parmigiano reggiano nel 2023. Agroalimentare, Italia, terza per export in USA. In un mondo in cui 783 milioni di persone soffre ancora la fame, ogni giorno vengono sprecati oltre un miliardo di pasti. A rivelarlo è il Food Waste Index Report 2024 dell'UNEP, il programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente. Lo spreco alimentare continua a danneggiare l'economia globale e ad alimentare il cambiamento climatico, la perdita della natura e l'inquinamento. Nel 2022 sono stati generati 1,05 miliardi di tonnellate di rifiuti alimentari, comprese le parti non commestibili, pari a 132 kg pro capite e quasi un quinto di tutto il cibo a disposizione dei consumatori. Del totale spreco alimentare, il 60% è avvenuto a livello familiare, con i servizi di ristorazione responsabili del 28% e la vendita al dettaglio del 12%. Secondo dati recenti, le perdite e gli sprechi alimentari generano tra l'8 e il 10% delle emissioni globali annuali di gas serra, quasi cinque volte quelle del settore dell'aviazione, e una significativa perdita di biodiversità, assorbendo l'equivalente di quasi un terzo delle emissioni mondiali. Il costo delle perdite e degli sprechi alimentari sull'economia globale è stimato a circa un trilione di dollari. In tutto il mondo, soltanto quattro paesi del G20, Australia, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti, oltre all'Unione Europea, registrano dei livelli di spreco che segnano un avanzamento verso il traguardo del 2030. In particolare, il Regno Unito ha registrato una diminuzione degli sprechi del 31% e il Giappone del 18%. Il valore del mercato dell'intelligenza artificiale nell'industria alimentare mondiale raggiungerà i 43 miliardi di dollari entro il 2028, quintuplicando il valore di 8 miliardi raggiunto nel 2023. A stimarlo è una ricerca di PVC Italia, secondo cui è prevista una crescita di forza lavoro qualificata e specialisti, EIAI, che si traduce in nuove competenze per ottimizzare la produzione, la distribuzione e la sicurezza alimentare. Nel 2023, l'EIAI nel settore alimentare in Nord America ha raggiunto un valore di 3,5 miliardi di dollari, con una quota del 42% sul mercato globale che salirà al 43% nel 2028. La leadership di mercato nel Nord America è legata all'intensificazione dei controlli sulla sicurezza alimentare, all'introduzione di standard di qualità più elevati e all'adozione di nuovi modelli di business per l'automazione dei processi, soprattutto nella logistica. L'Europa, con una quota del 27%, si posiziona al secondo posto, trainata soprattutto da Germania e Francia, seguite da Italia, Spagna, Paesi Bassi e Svizzera. Guardando i segmenti della filiera agroalimentare, la logistica rappresenta il 34% del mercato delle EIAI, grazie all'uso dei sistemi avanzati per l'automazione che potenziano l'efficienza e la reattività dei magazzini, il miglioramento degli imballaggi, l'adozione di sistemi di ispezione visiva automatizzati. Il controllo qualità sarà il segmento trainante per l'innovazione dell'EIAI nel settore e raggiungerà un valore di mercato di 6 miliardi di dollari nel 2028. Fatturato record per il parmigiano reggiano nel 2023. Il giro d'affari al consumo ha toccato il massimo storico di 3,05 miliardi contro i 2,9 del 2022, con un aumento del 5%, è quanto emerso durante la presentazione a Milano dei dati economici del Consorzio. La produzione è stabile a 4 milioni di forma, vendite totali in aumento dell'8% e un prezzo medio all'ingrosso che ha registrato un lieve calo del 5% rispetto al 2022, ma è in decisa ripresa nel 2024. Il presidente del Consorzio parmigiano reggiano, Nicola Bertinelli. Un'Italia che ha performato in un modo strepitoso, infatti ha fatto un più 8,4% di volume in totale, l'Italia ha fatto un più 10,7% e un estero che ha superato un 5%. Come mai queste performance di uscita così importanti? Perché il prezzo relativo tra il parmigiano reggiano e i suoi competitor hanno fatto sì che la distribuzione spingesse tanto il parmigiano reggiano. Da un punto di vista dei mercati, crediamo mercati positivi in quanto abbiamo ripristinato un equilibrio tra offerta di prodotto e domanda, ma la crescita del parmigiano reggiano deve vedere i mercati internazionali, in modo particolare quei paesi dove la cultura del cibo italiano è importante, vedersi gli Stati Uniti. Nel 2023 i visitatori totali nei caesi effici del comprensorio sono stati 170.000, in aumento del 10% sul 2022. Un trend positivo anche grazie al nuovo regolamento europeo che concede ai consorzi maggiori poteri decisionali per la promozione di questo tipo di turismo. Riccardo Deserti, direttore del Consorzio parmigiano reggiano. La novità è di avere scritto nero su bianco che è compito dei consorti di tutela occuparci dello sviluppo turistico nelle zone di origine. Quindi questo è un riconoscimento del ruolo che comunque le indicazioni geografiche hanno nel e per il territorio e dall'altro questo apre la possibilità di essere più concreti, più efficaci nello sviluppo di queste attività. E per il parmigiano reggiano che già da anni ha investito e ha fatto passi importanti in maniera autonoma, questo ci darà grandi prospettive. Dopo il Messico e il Canada, l'Italia è il terzo paese da cui gli Stati Uniti importano più prodotti agroalimentari e bevande. Con un valore di 7,3 miliardi di dollari, l'export made in Italy negli USA ha superato nel 2023 la Francia, scalzandola dal podio dei maggiori fornitori. Nonostante dilaghi l'Italian Sounding, ovvero i prodotti che richiamano nel nome le tipicità italiane pur essendo in realtà confezionati oltreoceano, gli americani preferiscono i prodotti originali. Nelle esportazioni italiane verso gli USA in ambito agroalimentare, a farla da padrone è il vino, che nel 2023 ha toccato un valore di 2,1 miliardi di dollari. Sul podio anche l'olio d'oliva con 706 milioni di export e le salse e altre preparazioni alimentari pari a 633 milioni. Seguono la pasta con 597 milioni di dollari, il formaggio, i prodotti da forno, le acque, le conserve vegetali, i super alcolici e le carni lavorate. Un altro prodotto caratteristico del made in Italy, il caffè, che si colloca all'undicesimo posto con 137 milioni di dollari di esportazioni. Grazie a tutti.